Benvenuti su GVTechnation. In questo video vedremo come, con una sola semplice riga di comando da terminale, sia possibile connettersi tramite il protocollo di rete SSH o SecureShell se preferite, ad un computer remoto presente nella propria rete LAN. Il tutto senza bisogno di installare programmi aggiuntivi perché, in genere, i pacchetti necessari sono installati di default dalle varie distribuzioni Linux. Proprio tramite questo protocollo io ad esempio controllo il mio muletto, questo che vedete in foto. Come potete notare non sono collegati tastiera, monitor, mouse e quindi l'unico modo per controllarlo è tramite appunto SSH che mi permette di effettuare tutte le operazioni di manutenzione che si rendono necessarie, ad esempio lo spostamento di file dal muletto agli hard disk USB collegati. Proprio riguardo al muletto, apro una parentesi perché ci tengo a dire che sul canale ci sarà una intera playlist che probabilmente chiamerò muletti perfetti e che raccoglierà una serie di video su come dare una nuova vita a vecchi pc ormai obsoleti ma che con il giusto sistema operativo e piccole modifiche possono dare ancora tanto. Apriamo quindi il terminale sul nostro sistema, nel mio caso sto usando Ubuntu Mate 15.10 e vado in Applicazioni, Strumenti di sistema, Terminale di Mate. Ora dobbiamo comunicare il protocollo da usare per la connessione e scriveremo SSH lasciando poi uno spazio. Quindi bisogna indicare l'utente col quale vogliamo identificarci sul pc remoto. Ovviamente dovrà essere un utente presente su quel sistema. Nel mio caso ho abilitato la possibilità di connessione tramite SSH anche dell'utente root, cioè dell'amministratore di sistema. Ora è necessario indicare l'indirizzo IP del nostro pc remoto nella rete LAN. Premuto invio, la prima volta che avvieremo la connessione SSH con un determinato computer ci appariranno questi messaggi. Volendili spiegare in una maniera molto semplice, ci viene comunicata la chiave di criptazione associata alla connessione SSH e ci viene chiesto se intendiamo continuare. Rispondendo affermativamente e premendo invio ci verrà richiesta la password relativa all'utente scelto. Inseriamo la password e premuto invio saremo entrati nel sistema remoto. Qualsiasi comando inserito nel terminale sarà quindi eseguito non in locale ma sul computer a cui siamo connessi. Ora per poter chiudere invece la connessione sarà sufficiente scrivere exit e quindi si tornerà al terminale del computer locale. Bene, spero che il video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e se volete magari iscrivervi al canale. Vi ringrazio per la visione e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!